Giorni decisivi per Gibson che attende una chiamata dall'NBA. Mercoledì prossimo scade il termine ultimo valido per la clausola dell'escape, dopodiché se l'esito sarà negativo, se la massima serie americana non lo dovesse convocare, allora il giocatore coliforniano resterà nelle fila biancazzurre. Gibson si andrebbe così ad aggiungere al resto della squadra, dove questo fine settimana è arrivato un giovanissimo. Si tratta di Daniele Pacella, proveniente dalla banca Tercas Teramo, Gallega A, nato a Gallipoli, classe 94, altezza 195 cm per 76 kg, il suo ruolo guardiala. Pacella è iniziato a giocare a palacanestro nel 2006 nella nuova palacanestro Gallipoli, distinguendosi a tal punto da destare le attenzioni dello staff del Teramo, che nel 2008 lo ha dapprima inserito nelle varie formazioni giovanili e poi successivamente nel gruppo della prima squadra. Dopo questo colpo di mercato però pare che la società non si sia fermata, ma al contrario si è accelerando per chiudere quanto prima con un alto atleta, Gerai Grant, nipote di una grande stella americana, il campione NBA Horace Grant, vincitore di ben quattro anelli tra Chicago e Lakers. Una trattativa difficile per la società dell'Enel Basket, ma non impossibile.